Lo Stato deve chiedere tutta la verità, deve pretendere giustizia per Regeni e contemporaneamente lo Stato deve avere rapporti con altri paesi. Le due cose sono conciliabilissime, la fermezza sulla vicenda Regeni e il fatto che lo Stato debba dialogare con stati che sono fondamentali anche per il futuro di tutti noi, come nel Mediterraneo e nel fronte sud del paese, come nel Reggio.